secondo blitz in due giorni della questura presso il municipio del comune di agropoli dopo la visita di alcuni poliziotti in borghese nella mattinata di ieri questa mattina altri controlli degli agenti ma con la presenza anche degli ispettori ministeriali l'amministrazione agropolese è nell'occhio del ciclone e la questura a quanto pare sta tenendo d'occhio la società del comune la cilento servizi infatti sono stati prelevati dagli agenti dei documenti contabili proprio relativi all'ente comunale e alla sua società l'indagine della procura di vallo della lucania continua nonostante le parole di ieri del sindaco coppola che invitavano alla calma e che definivano la presenza palazzo di città degli uomini della questura come normale attività di controllo e soprattutto la presenza degli ispettori del ministero dell'economia e delle finanze appare preoccupante